Il lavoro che ci spetta è un lavoro molto impegnativo perché reeditiamo importanti risultati che sono stati ottenuti per il nostro Paese ma ancora risultati che sono da ottenere, uno tra tutti penso alle opere che Sindial si dovrà far carico di concludere e di avviare di concludere nel nostro territorio relativamente alle difese spondali dell'asta del fiume Toce. Proprio oggi sto scrivendo una lettera a questo riguardo per sollecitarli rispetto alla chiusura dell'accordo da formalizzare tra il Comune, la Regione, la Regione Piemonte e Sindial appunto per poter finalizzare questo importante obiettivo che è il primo obiettivo che noi dobbiamo perseguire perché ha a che fare con la messa in sicurezza idrogeologica di tutto l'abitato del nostro Paese. Quali invece le altre linee programmatiche pensando anche alla valorizzazione culturale di un borgo meraviglioso? Assolutamente questo è un altro caposaldo della nostra attività amministrativa su cui noi vorremmo investire nel lavoro dei prossimi cinque anni su questo abbiamo voluto cercare di legare tradizione e innovazione nel senso che noi immaginiamo che sia di fondamentale importanza riscoprire le proprie origini e la propria identità culturale e storica per questo abbiamo intenzione di promuovere anche un lavoro di ricerca sulla storia di Vogonia. Da legare però è necessario il tema dell'innovazione per cui anche per quanto riguarda la promozione turistica del nostro borgo rimanere all'interno dei circuiti che già ci vedono presenti, penso ai borghi più belli d'Italia, borghi sostenibili ma anche cercare di entrare in nuovi circuiti di promozione, penso al tema del turismo lacustre che forse in Ossola ancora è troppo poco sviluppato cercare quindi di riportare le persone che già oggi sono sul nostro territorio e che magari non sanno quanto è bella Vogonia e quanto ha da dare anche dal punto di vista culturale delle bellezze paesaggistiche.